Quelli che arrivano dall'Australia, dal Canada, dal Brasile, dall'Argentina, abbiamo abbastanza prenotazioni anche estere. Meno due, un paio di mesi ancora e sarà la grande adunata del Piave. La città ha già cominciato ad indossare il tricolore. C'è stata l'assemblea dei delegati della sezione ANA di Treviso, ma anche questo appuntamento è stato un momento per fare il punto sulla adunata. Le domande sono passate sulla adunata, era normale. L'assemblea ha così deciso di congelare il rinnovo delle cariche fino all'anno prossimo in modo da consentire la preparazione dell'evento trevisiano senza scossoni e strambate. Tutto deve filare liscio. E Raffaele Panno resta dunque alla guida di 89 gruppi e 10.500 penne nere, già pronti a sfilare per le vie di Treviso domenica 14 maggio. Dobbiamo lavorare fino al giorno prima, fino al venerdì mattino, dove è sempre in tensione. Da qui alla adunata, oltre ai preparativi e all'incontro con la Questura e la Prefettura, si terranno una serie di concerti ed eventi. Il primo sarà la Marcia della Pace. La Marcia della Pace, che è la marcia che partirà dal Monte Peraiba, da Sappada, e terminerà alle foci del Piave, toccando tutti i monumenti e tutti i siti lungo il percorso del fiume Piave. Al sabato sera, invece, la marcia si fermerà a Valdobiadene. Qui l'inaugurazione della piazza intitolata all'Alpino è la consegna della cittadinanza onoraria al VII Alpino. Intanto continuano le prenotazioni di alberghi e campeggi. In overbooking a Treviso, pienone sul litorale veneziano.